Un saluto a tutti e grazie a Valdoschini per l'invito. Non esiste nella storia un ideale che possa sostituire quello della libertà. Sono parole di Benedetto Croce, come ben sappiamo tutti, promotore assieme a Giovanni Amendola ed estensore del Manifesto degli intellettuali antifascisti nel 1925, ma anche fondatore della rivista La Critica, che è stata attiva per 40 anni in Italia e in particolare durante il ventennio ha rappresentato un punto di riferimento essenziale e fondamentale per tutto l'antifascismo italiano. Io mi chiamo Maria Panetta, sono la fondatrice della rivista Diacritica, un periodico open access a carattere accademico che si rifà sia nel nome sia nella periodicità proprio alla Critica di Croce. Noi sosteniamo il Cric e tutte le sue iniziative e ci riconosciamo a pieno nei valori di cui si fa l'atore da tanto tempo. Un saluto da parte del direttore del Comitato Scientifico Tutto e del Comitato Editoriale e buona festa della liberazione a tutti!